Il grazie a partire, io li cito sempre perché gli operatori sanitari, medici e infermieri sono, io li ho definiti gli eroi dei nostri giorni e quindi a partire da loro, ma a partire da tutti quelli che stanno facendo i sacrifici, attività economiche, tutti stanno facendo grandissimi sacrifici e nello specifico ogni singolo cittadino che si attiene alle norme, perché è oggettivo che comunque in giro per la città, si vede che la città è chiusa, cioè non è che non si veda, il che significa che la stragrande maggioranza si sta attenendo alle norme, al buonsenso, alle ordinanze anche più restrittive, a questi va un grandissimo ringraziamento. Ha chiuso così il primo cittadino della città la videoconferenza per fare il punto della situazione a Verona. A tutti i veronesi che si impegnano a rispettare le regole, un grazie. In questi ultimi giorni tante le decisioni, le ordinanze varate, come l'ultima che prevede fino al 25 marzo il divieto d'ingresso ai pedoni in tutte le aree verdi e parchi pubblici, sui bastioni delle cinta murarie e sulle alzaie lungo l'Adige. E' ancora uso contingentato delle aree cani, con possibilità d'entrata uno per volta per non più di cinque minuti, di vieto di sedersi sulle panchine, diventate luogo di aggregazione e utilizzo delle piste ciclopedonali solo in bicicletta ed esclusivamente come mezzo di trasporto per gli spostamenti di lavoro o per necessità. Un'attenzione particolare, ha spiegato Sboarina, anche per l'accesso ai supermercati. Ho dato disposizioni, attraverso le associazioni di categorie, di attenersi in modo stringente a quelle che sono le norme, le precauzioni previste del DPCM e non solo. Quindi i guanti per i collaboratori, per i dipendenti di supermercati, le mascherine, le distanze di sicurezza, gli ingressi contingentati, la regolamentazione quindi degli ingressi, fare in modo che all'interno del supermercato non si creano quegli assembramenti che stiamo cercando di evitare. Ed intanto continuano le verifiche effettuate dalla polizia locale, la sanificazione di tutte le strade comunali. Ancora tutti l'appello a non muoversi. Ricordo, ha detto il sindaco, che gli spostamenti fuori casa sono consentiti solo per andare a lavoro, al supermercato o in farmacia. I cittadini sono chiamati ad un ulteriore senso di responsabilità.